Buonasera cari amici Toscana Sprint, ci troviamo con le immagini a appoggio alla cavalla, sì perché dopo alcuni anni che purtroppo causa anche il covid ha fermato questa gara storica, veramente possiamo dire storica, siamo tornati con quello che molti definiscono il mondiale di primavera. Questa gara che come potete vedere ha riunito tanti appassionati del ciclismo, anche persone storiche, abbiamo visto prima Maionchi, abbiamo visto Luciana Gradassi, abbiamo visto presente ovviamente il comitato provinciale pistoiese con Alessandro Becherucci il suo presidente, vediamo Alessio Baronti, figlio del compianto Giuliano Baronti che proprio qui a due passi dal circolo ha la ditta della Neri Sottoli, quindi intanto vediamo sfilare le varie formazioni, questa è la Mastro Marco Sensi Nivali, qui il dottore, uno dei dottori, il dottore Antonio Stinchetti nella foto, quella Parpri Iki Sport, gara che ovviamente ritorna come detto dopo alcuni anni di stop, però è bello poter ritrovare anche queste gare, gare organizzata dal gruppo sportivo Poggio alla Cavalla e con ovviamente la Mastro Marco, anche abbiamo visto Franceschi nelle immagini prima, con l'aiuto anche del circolo Tamburini di Cerbaia dove si sta svolgendo la presentazione delle squadre, con l'aiuto ovviamente anche del pasticino della provincia di Pistoia e del comune di Lamporecchio, dove dovrebbe esserci anche il sindaco alla partenza, vedremo poi nelle immagini. Stiamo ancora vedendo le varie formazioni che praticamente ci stanno sfilando, davanti saranno 98 e 600 metri il chilometraggio dopo, diciamo che sarà una specie di rivincita di quello che c'è stato sabato a Ponta Egola con Pasqualando, con la vittoria di Francesco Di Felice, chissà che magari oggi Lorenzo Cataldo. E' arrivato anche il presidente del comitato regionale Saverio Metti, è arrivato anche il sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, con ovviamente la premiazione speciale, è ovvio, per il figlio di Giuliano, uno dei figli di Giuliano Alessio Baronti, che ha ricevuto la targa perché non si può assolutamente dimenticare ciò che ha fatto Giuliano. Giuliano era di qui, di Cerbaia, di Lamporecchio, la sua azienda è di qui, ma soprattutto quanto ha fatto bene al ciclismo Giuliano Baronti, nessuno lo può dimenticare e ogni volta che c'è qualcosa, c'è sempre un ricordo per lui, c'è stata la prima gara in ricordo per lui della categoria Juniors, abbiamo visto quello che è stato, insomma, anche tanti altri ricordi, anche una cena pensate, e intanto il Via, Via che è stato dato in questo momento dopo il minuto di silenzio per ricordare Riccardo Biagini, anche qui. Hanno preso il Via 90 atleti, con ovviamente le formazioni della Mastro Marco Sensi Nibali, che è la scuola di casa, la Cattoli Andrea, la Bike Academy Racing Team, la Etruria Team Sestesa Morevita, la Futura Team, la Gallina Ecotech Lucchini, la Gragnano Sporting Club, il gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca Cambiano, la Hopla Petroli Firenze Don Camillo, la Linear Orvai Cavezzano, la MG Kavis Color for Peace, la Parprix Sport, la Polisportiva Tripetetolo, la San Cascianese Ciclismo, il Team Franco Ballerini, la Pistoiese, la VPM Moretti e la Autoricambi Marroni. Queste sono le formazioni che hanno preso il Via, per 90 atleti ci saranno addirittura 5 traguardi volanti, quindi bisognerà veramente stare attenti. Una gara, come detto, che è definita a molti il Mondiale di Primavera, qui hanno vinto atleti che poi sono passati veramente al professionismo, se si può dire. Intanto il gruppo che vede sta vedendo uscire dopo un paio di tornate un gruppetto di atleti, quattro atleti che stanno provando ad uscire, la moto in formazione, ce l'avevamo dimenticati, quella di Sandro Manzi, Servizio Scorta invece ha affidato a Moto Guzzi di Prato, e qui vediamo che le maglie della Maltinti, con anche quelle della Petroli, ma anche quelle della Gragnano, con Cataldo in prima persona, a provarci a venire via. Queste sono solo le prime tornate, ovviamente bisognerà anche stare attenti, ecco un piccolo ricordo di Giuliano, la Neri Sottoli è proprio di lì, e siamo piombati con le immagini. Su un battistrada, Mattia Piccini della Gallina Ecotec Lucchini, questa è la formazione che è uscito, è il corridore che è uscito in questo momento, Mattia Piccini, corridore toscano, corridore fiorentino per l'esattezza, è riuscito ad uscire dal Plotone, lui che ha corso con la maglia della Malmantile, anche con la maglia della Fosco Bessi nella categoria Juniors. Intanto dal gruppo provano anche gli atleti di Roberti Chioccioli ad uscire dal gruppo per vedere di rientrare sul battistrada, che ha già un vantaggio in una quindicina di secondi, ora è Mattia Benedetti che prova ad uscire dal Plotone, a provare a inseguire il battistrada, percorsi i primi giri, anche perché c'è il traguardo volante, occhio perché c'è il traguardo volante, quindi Mattia Piccini potrebbe andare a trionfare sotto il primo traguardo volante di giornata, intanto siamo ancora sul gruppo, ripreso Benedetti, adesso è la Gragnano, se non erro, che sta facendo l'andatura, però coprono molto bene gli atleti alle spalle di Proconorene, il compagno di squadra, Mattia Piccini ovviamente è lì che sta provando a fare il suo. Ricordiamo che abbiamo fatto per ora quattro giri del percorso, siamo davanti al circolo Arcitamburini di Cerbaia, quindi a momenti poi ci sarà il passaggio sotto il traguardo, gruppo che marcia veramente ad una velocità folle per andare a riprendere, c'è uno scatto, scatto della maglia della WMP, che prova ad uscire ora della WMP Moretti, vediamo curva in questo momento, adesso strada che tenderà un po' a salire, poi ci sarà una leggera discesa e l'arrivo che tende un po' a salire, ma piano piano niente di che, eccolo qui nel dettaglio. Traguardo volante, traguardo volante in questo momento, traguardo volante vinto da Mattia Piccini, seguito da Sandro Manzi con la sua moto, quindi traguardo volante dopo appena cinque giri, vinto proprio dal primo, dal corridore della gallina Ecotec Lucchini, che si prende praticamente il primo traguardo volante di giornata, dicevamo anche dei nomi importanti che hanno vinto questa gara, perché l'hanno vinta veramente fior fior di corridori, corridori poi passati addirittura al professionismo, quindi non è da sottovalutare, oggi magari con tutte queste squadre, non continua, però, esempio, prima edizione vinta da Capecchi della Pratese, davanti a Scarcelli, a Tadde, Simonelli e a Cinelli, pensate, prima edizione nel 1963, ed era una gara di esordienti, pensate voi che cosa poteva esserci veramente, l'ha vinta Moser nel 1971, si è ripetuto nel 72, poi è arrivato ovviamente a vincerla, intanto c'è una maglia della formazione della Maltinti Lampadari, Banca Cambiano, in questo momento è Ox che prova ad uscire dal plotone, Ox esce in questo momento, ma gruppo è lì, praticamente gruppo compatto, sono le maglie della Gragnano, con le maglie della Oplà, Matteo Provini e anche Massini avranno sicuramente detto, imparate da quello che è successo a Pasqualando, quando viene andato via di felice nel finale, l'ha vinta anche a Giano, per dire nel 93, a Giano l'aveva già vinta nel 91, quindi una doppietta per lui, l'ha vinta Franco Ballerini, in Magna Magni Flex nell'84, tra l'altro bisogna anche dire, poi il compianto Franco Ballerini, che l'ha vinta come detto, e quell'anno ci fu anche un bello ordine, con Naldi, Lerici, Lucchesi, Trowell, insomma, veramente Lerici che l'aveva vinta nell'83, per dire, poi negli ultimi anni, non ne parliamo, perché negli ultimi anni c'è stata la doppietta di Tommaso Fiaschi, nel 2019, nel 2018, nel 2019, però c'è stato Roberto Cesaro, che l'ha vinta nel 2009, c'è stato ovviamente la doppietta di Montanari, nel 2007, nel 2008, la vittoria di Emanuele Rizza, ma gli Amaltinti Solgomma, nel 2005, queste alcune, intanto, traguardo volante in questo momento, traguardo volante, vinto da Matteo Gialli, in questo momento, ha vinto Matteo Gialli, il traguardo volante, il secondo traguardo volante, era stato vinto, invece, da Jacopo Colladon, della linea Oro Bike, a Vezzano, mentre in questo caso, è stato Matteo Gialli, a Matteo Gialli, a vincere della Etruria Team Sestese, Amore Vita, a vincere il traguardo volante, intanto, stiamo vedendo nelle immagini, anche un po' di percorso, un po' ondulato, ma possiamo dire, adattissimo alle ruote, veloci, quindi oggi, possiamo dire che, Opla, Gragnano, Mastromarco, lavoreranno, per i propri, tra parentesi, capitani, e Matteo Lapobosicevic, che è sempre davanti, sta veramente facendo un grande lavoro, per il proprio, compagno di squadra, dovrebbe essere Lorenzo Maia, a fare la gara, intanto, è Niccolò Garibbo, che prova a forzare l'andatura, l'atleta della Gragnano, poi in terza posizione, Benedetti, della formazione dell'Etruria, tre atleti, che provano ad uscire dal gruppo, come detto, prima posizione per Garibbo, seconda per Bosicevic, terza per Benedetti, rilancia l'azione, il corridore della futura, della futura, team Rosini, prova a rilanciare, vediamo, lasciamo lì, i due atleti, che erano con lui, ovvero Garibbo e Bosicevic, e prova da solo, probabilmente, l'Etruria team, un uomo più veloce, però, può darsi anche, che vogliano provare, a far lavorare le altre formazioni, perché, anche il gioco, in questa, in una gara come questa, è anche, proprio questo, far lavorare gli altri, far lavorare gli altri, per vedere poi, cosa ne uscirà, intanto, sembra essere rientrato, Garibbo, senza alcun, problemi, è rientrato, sì, assolutamente, in questo, ricordiamo, che questo, cinquantottesimo, Gran Premio, Sportivi, poggia la cavalla, valido anche, come terzo Gran Premio, Sensi, Vigne e Vini, e il terzo Gran Premio, Ortigni, Mauro, e il trentaquantresimo, Gran Premio, Circolo Arci, Tamburini, Cervagna, e il primo Gran Premio, in ricordo, ovviamente, di Giuliano Baronti, come abbiamo detto, tante volte, tanti gli sponsor, che come sempre, hanno voluto dare, ovviamente, l'aiuto, la Cavallo, la Gusto Party, Montalbano, intanto, vediamo che il gruppo è, compatto, la Stamp Foil, la Rinati, di Lamporecchio, la Piante Fiori, Stefania e Silvia, il ristorante Pizzeria, in vino Veritas, gli imballaggi, Brogi, Parigino e Andrea, queste alcune sposi, intanto, la Polisportiva, Tripetetolo, che sta lavorando, la World Telefonia, il Bar Gli Schizzati, la produzione in fissi, in legno, Arte in fissi, la Streda, sponsor ovviamente, intanto, qui le immagini, proprio, del circolo, del circolo, Arci Tamburini, in Cerbaia, dove passa ora, un corridore da solo, ed è Nicola Parenti, Nicola Parenti, scusate, Nicola Parenti, che è uscito, in questo momento, atleta solitario, della Bike Academy Racing Team, atleta anche, che fa, soprattutto, nel fuoristrada, sicuramente, atleta che ci sta, ci si sta cimentando, invece, sulla strada, in questo percorso, che tra l'altro, è molto, molto veloce, in questo momento, dobbiamo dire, sono già stati affrontati, tre dei cinque, traguardi volanti, di giornata, quindi, si può dire, che si è già percorso, 98 chilometri, erano, ovviamente, la gara, in questo momento, si è percorso, una cinquantina di chilometri, più di cinquantina di chilometri, sono già stati percorsi, intanto, ripreso, in questo momento, Nicola Parenti, con la, futura Team Rosini, a tirare, con dietro, subito, anche le maglie, della Gragnano, altri sponsor, della manifestazione, la Vescovi Renzo, la Ponziani Graziano, la Giannon Imaro, verniciatura in fissi, la Bruni Arredamenti, di Cereto Guidi, la Edil Sterri, la Edil Sterri, la Loggia dei Medici, ovviamente, sponsor, anche di altre manifestazioni, il Mestolo, la CL Innocenti, questi altri sponsor, la Mariotti Pallets, questa è la pasticceria Carli, Carli, la Ottica 2.0, il gioiello, il panificio Vescovi, intanto, vediamo che sono sempre gli atleti di Chioccioli che stanno facendo l'andatura davanti di Franco Chioccioli, a fare l'andatura davanti al gruppo, con sempre, la futura Team Rosini, davanti. Oggi, abbiamo detto un po' di nomi che potrebbero fare il risultato, abbiamo detto di Lorenzo Magli, che, chiaramente, vince anche in casa, ma anche, chiaramente, Cataldo, grande favorita, è lui, chiaramente, non so, mi sono un po' incartato a dire un po' di volte. Intanto, stiamo per vedere altre immagini dalla corsa e sono le maglie adesso di Mattelio, sono le maglie della Opla Petroli Firenze, Don Camillo, che stanno facendo l'andatura, è forcing della formazione di Matteo Provini, sono lì davanti, stanno facendo corsa che, in questo momento, si può dire che sta andando veramente velocissima, velocissima, le immagini qui della radiocorsa Sandro Manzi e altri corridori. Adesso è là, occhio perché c'è un attacco in, veramente, in forza, in blocco della formazione di Marcello Massini, perché sono usciti tre atleti della Gragnano, poi c'è una maglia della Opla Petroli Firenze, Don Camillo, una maglia della E, della Gallina, Ecotec Lucchini. Queste sono le maglie, le andremo a identificare, sono due maglie della Opla, però, sono due maglie della Opla, in questo momento, le andiamo anche ad identificare di chi si tratta i due portacolori e anche il portacolori della maglia della Gallina, Ecotec Lucchini. Intanto si tratta di Mijalio Stolic, che sta provando a uscire con altri tre atleti e due maglie della formazione della Opla Petroli Firenze. Don Camillo, eccolo qui, che stiamo vedendo, sembra essere Garibbo, vediamo, o Boschi, vediamo un po', no, in realtà dovrebbe essere Garibbo, dovrebbe essere sempre Niccolò Garibbo, che sta facendo l'andatura sulla testa in forza, anche perché così facendo obbliga le altre formazioni a lavorare, allora c'è anche Angiolini, Bernardo Angiolini, insieme a Stolic e a Garibbo, e poi vediamo di chi si tratta gli altri corridori, per quello che riguarda la Opla, si tratta di Alessio Acco, Alessio Acco che ci sta provando ad uscire, anche questa è una nuova tattica, nel senso far lavorare le altre formazioni, loro sarebbero quelle che dovrebbero, avrebbero le forze per lavorare, si trattava di Andrea Chiarucci, allora non era Garibbo, era Chiarucci con Angiolini, l'altro abbiamo visto era Stolic della Gallina, questi erano i corridori in fuga che abbiamo visto in questo momento, gruppo che come sempre sta marciando compatto, non c'è una vera e propria formazione che sta tenendo, intanto cinque giri alla conclusione, cinque giri alla conclusione, dobbiamo dire che siamo veramente nel finale di questa gara, gara che è andata via veramente velocissima, traguardo volante abbiamo detto vinti, primo da Matteo Piccini, il secondo traguardo volante è stato vinto da Jacopo Colladon della linea Eurobike Avezzano, terzo da Matteo Gialli dell'Etruria Team Sestese Amore e Vita, il quarto traguardo volante è stato vinto da Umberto Morea della sportiva Trippetetolo e poi il quinto e ultimo traguardo volante è stato vinto dal corridore del Gragnano ovvero si tratta di Matteo Niccoli che ha vinto l'ultimo traguardo volante Occhio perché adesso bisogna stare attenti e imparare è difficile che rispetto a Ponta Egola come è successo sabato abbiamo visto venire via un corridore da solo Francesco Di Felice che si era avvantaggiato quei metri perché c'era quella S un finale molto insidioso per quello che riguarda il tecnico non insidioso in altri sensi è insidioso sul lato tecnico è difficile invece qui che qualcuno riesca a fare la differenza tanto un atleta della WPM sta provando ad uscire in questo momento si tratta di Giuliano Santarpia che prova ad uscire atleta della WPM Moretti SCS questi vantaggio veramente minimo sta uscendo un altro atleta Maglia della Gragnano mi sembra mi sembra la Maglia della Gragnano non vorrei sbagliarmi sì è una Maglia della Gragnano tanto per cambiare i corridori diretti da Marcello Massini sanno quando è il momento di muoversi sanno quando è il momento di andare a diritto e in questo momento è Alessio Ninci che riesce a rientrare su Giuliano Santarpia quindi rientrano due atleti quindi al comando in questo momento quando mancano poco più di poco più di quattro giri alla conclusione un gruppo che è il momento lunghissima fila indiana tirato dagli atleti delle formazioni dei velocisti anche la Gragnano è una delle formazioni dei velocisti però probabilmente la scelta è stata un po' diversa hanno scelto di fare una tattica diversa e quindi vedremo come detto dopo alcuni anni tutti i volontari che ci sono di Poggia alla Cavalla hanno voluto riportare questa gara come detto il Mondiale di Primavera questa Gran Premio Sportivi Poggia alla Cavalla che ovviamente poi con l'aiuto anche della Mastro Marco è venuto è venuto ovviamente tutto più più facile vediamo ancora altri passaggi sono le maglie adesso della D'Antonio adesso non c'è un vero e proprio controllo vediamo sono le maglie della della Gragnano però c'è un po' di confusione in testa al gruppo un po' di difficoltà ci sono perché non si sa non si vuole sbagliare il momento in cui bisogna partire cartello che indica tre giri alla conclusione quindi vediamo presente anche Franco Biagini anche Zingoni anche abbiamo visto Saverio Metti presente eccolo lì che siamo di nuovo su un altro passaggio ed è un atleta della Opla prima hanno rincorso e adesso ci provano ad uscire dal gruppo Chirillo Tarstenco questo il corridore della Opla Petroli Firenze Don Camillo che è uscito dal gruppo per provare anche perché ora siamo nelle battute finali è importante anche saper lavorare probabilmente Matteo Provini ha controllato la corsa per ora ora a questo punto vedendo che anche la Gragnano si sta muovendo qualche uomo per far lavorare gli altri perché sono tutti attacchi secondo noi esplorativi attacchi dove si prova a far lavorare le altre formazioni dei vari uomini veloci in questo caso Matteo Provini non vuole rischiare di lasciare pochi uomini a disposizione del colombiano Gomez vincitore a Montelupo Fiorentino nell'hackermess di Montelupo Fiorentino sempre primo piano del corridore vantaggio se è veramente minimo davvero ma è un'altra maglia della Gragnano adesso adesso un po' di spiripaglia sono curiosi di vedere la Mastro Marco perché ha fatto lavorare a lungo Matteo Lapo Bozicevic nelle fughe nei tentativi però ora negli ultimi giri veramente sono un po' fuori è Angiolini ora che esce dal gruppo Bernardo Angiolini che è riuscito a ripiombare sul corridore della Opla su Torsenko quindi due atleti al comando per quello che riguarda e adesso è la gallina Ecotec la gallina Ecotec Lucchini che sta facendo il ritmo in testa al gruppo veramente alto il ritmo si è Riccardo Perani a fare l'andatura sul gruppo Riccardo Perani poi dietro occhio perché inizia a muoversi i vari treni bisogna fare veramente attenzione a quello che sarà poi c'è Mialo Stolic in seconda ruota dietro a Perani si organizza anche il treno il lavoro della gallina Ecotec Lucchini però abbiamo visto che dietro è la Opla Petroli Firenze Don Camillo soprattutto che è schierata in blocco alle spalle delle maglie delle maglie verdi anche per lanciare il colombiano Nicolas Iaramillo Gomez per la volata finale in quella di Poggia la Cavalla un arrivo come detto molto scenografico soprattutto per questa leggera discesa leggera discesa che c'è poi si risale un po' quindi è un po' particolare non bisogna mai sbagliare il tempo di partenza ma soprattutto anche l'inserimento dei rapporti nel momento giusto quando è il momento di buttare giù a testa bassa e provarci intanto arrivano anche altri atleti sembra Mattia Piccini che adesso va a rilevare Perani sulla testa del gruppo la gallina che adesso sta lavorando dopo aver provato l'attacco prima con proprio con Piccini nei primi momenti di gara poi è stato Stolic ad entrare in un tentativo adesso si ripassa di nuovo davanti al circolo Tamburini di Cerbaia quindi a momenti si risvolterà di nuovo per andare verso il traguardo e vedere il passaggio soprattutto vediamo quello che sarà Maglia della Maltinti Maglia della Maltinti Maltinti Lampadari Banca Cambiano abbiamo visto veramente il figlio di Renzo Maltinti veramente molto preso molto felice quando ha visto arrivare Francesco Di Felice sabato era felicissimo ed è bello anche questo l'appassionarsi a uno sport che magari prima si vedeva con gli occhi del padre e ora lo vive in prima persona e siamo sicuri che Renzo sarà stato felicissimo della vittoria della sua Maltinti alla prima Pasqualando quindi chissà che magari oggi vogliano provare il colpaccio i ragazzi diretti da Scarcelli e da Antonini con Luciano Picchioni anche intanto sempre Maglia della Maltinti sta provando ovviamente è difficile partire è difficile perché in questo momento è molto difficile provare a fare la differenza quando l'andatura si va oltre 50 orari è riuscito a prendere quei 50 metri ma difficile poi a chiudere e riuscire soprattutto ad andare verso l'arrivo vedremo quello che sarà perché a momenti siamo veramente nelle battute finali li andiamo a prendere con la nostra telecamera fissa il gruppo il passaggio del gruppo schierata la gallina ecco Tec Lucchini passa ora in questo momento il gruppo si organizzano i vari treni vediamo i vari colori che si stanno organizzando in mezzo abbiamo visto il rosa il viola il violetto insomma rosa viola della formazione del del Mastro Marco Sensi Nivali ma eccoli qui sono le maglie di Matteo Provini sono i suoi uomini che stanno lavorando adesso quando c'è da essere organizzati loro sanno benissimo come lanciare velocisti lo sanno fare anche quelli della Gragnano ma probabilmente hanno deciso hanno fatto una scelta tecnica quella di lasciare in mano le operazioni alla formazione di Matteo Provini Matteo Provini che ha lasciato quindi in mano via libera carta bianca ai suoi ragazzi cambio abbiamo visto che ha chiesto il cambio il corridore in testa adesso veramente non bisogna sbagliare un centimetro non bisogna sbagliare il momento in cui si lascerà Nicolas Gianramillo Gomez perché è importantissimo anche le volate bisogna saperle fare bisogna che ci sia affiatamento soprattutto quando si tratta di tirare una volata un treno deve essere organizzato ma soprattutto deve essere affiatato ci deve essere quel giusto grado di affiatamento quindi vediamo vedremo come se la stanno momentaneamente se la stanno cavando veramente molto bene fin qui è chiaro che se parliamo in caso di esplosività Lorenzo Cataldo ha dimostrato nella gara di Ponte Egola di essere il più forte di tutti perché li ha bacchettati se non fosse stato che Francesco Di Felice era riuscito a venire via nel finale ma nettamente il più forte perché gli è arrivato veramente a ridosso della ruota quindi difficile pensare intanto stanno un po' perdendo piano piano i vari pezzi del treno come si dice si passa davanti al circolo Tamburini di Cerbaia quindi veramente siamo nel finale con la Opla Petroli Firenze Don Camillo che prova a rilanciare ma adesso il treno è stato sorpreso di nuovo le maglie della Maltinti Lampadari Banca Cambiano che provano ad uscire dal plotone in questo istante proprio nel finale di questa gara proprio come aveva provato a Pasqualando e c'era riuscito qui è difficile è molto difficile riuscire a fare la differenza però non bisogna mai sottovalutare perché in quel momento lì c'era una squadra che stava tirando il treno della Opla potrebbe aver perso un po' di forza e di impeto quindi sarà un finale tutto da vivere con una maglia della Maltinti si volta ancora quei 50 metri li ha presi sarà difficile mantenerli come a Pasqualando ma ci sta veramente provando per questo finale potrebbe essere sempre Francesco Di Felice dovrebbe essere sempre lui il corridore della Maltinti che sta provando ad uscire ma questa volta gli atleti della Opla non si sono lasciati si stronca si stronca veramente il gruppo sono due tronconi davanti una prima parte dietro si è veramente troncato gruppo compatto di nuovo ripresa anche il corridore della Maltinti Lampadari Banca Cambiano ripreso doveva essere Di Felice dovrebbe essere stato quello lì scusate e allora li lasciamo andare li andremo a prendere con la nostra telecamera fissa per vedere anche la volata vediamo stanno passando si sono spezzati in tanti tronconi l'attacco della Maltinti vediamo chi è parte ora il treno parte ora Cataldo parte ora Cataldo Magli prova a recuperare prova Magli a recuperare Cataldo sempre davanti Magli Magli vediamo se prova la rimonta Magli prova niente da fare Lorenzo Cataldo nettamente il più forte davanti a Magli terzo Gomez quarto Chiarucci quinto Fabri sesto Gavilli settimo Salvadori ottavo Di Felice nono Ninci e decimo Venturini questi i primi dieci della della gara dei primi dieci di questo gran premio sportivi poggio alla cavalla questo il replay della gara della questo il replay della vittoria di Lorenzo Cataldo era il favorito numero uno ce l'ha fatta ha nettamente vinto con queste immagini si è ripresa anche la vittoria la rinincita su Di Felice di Pasqualando andiamo alle interviste di rito con i protagonisti Lorenzo Cataldo Gragnano Sporting Club La Seggiola insomma era solo una cosa rimandata quella di Ponte Egola perché pochi giorni dopo ti sei presa questa stupenda vittoria sei sempre stato davanti la tua squadra ti ha sorretto sin dall'inizio poi nella volata finale hai capito il momento di partire sei partito sì dopo sabato che anche lei la squadra aveva lavorato alla perfezione solo che nel finale ci scappò Di Felice oggi invece abbiamo lavorato ancora meglio siamo stati protagonisti di tutta la corsa abbiamo fatto la corsa e poi nel finale ho dovuto soltanto finalizzare il lavoro che hanno fatti i miei compagni e oggi per fortuna non è scappato nessuno non è vaso nessuno e niente ho vinto la volata una dedica speciale quindi per questa vittoria ma la dedica a tutte le persone che sono qui presenti da tutti gli sponsor che ci sostengono ci permettono di fare un calendario ottimo direttore sportivi al presidente che giovedì mi si è rotto anche il terreno della bicicletta e venerdì mattina avevo subito uno nuovo e poi ovviamente tutta la famiglia la ragazza tutti tutti quanti Lorenzo Mai Mastro Marco Chianti Sensi Nibali è mancato veramente poco abbiamo visto provare il colpo di Reni anche nel finale probabilmente una corsa che avete anche gestito sotto il profilo di squadra anche bene quindi è mancata solo veramente questa ciliegina però probabilmente la condizione sta crescendo sì la condizione sta crescendo e oggi ci tenevamo particolarmente perché correvamo in casa c'erano tutti gli sponsor tutti quelli del paese a vederci però abbiamo sempre tenuto la gara sempre davanti però Cataldo è stato semplicemente più forte siamo con Caramilio Gomez della Opla Petroli Firenze Don Camillo allora oggi era un percorso adattissimo a te abbiamo visto che sin dal primo giro la squadra era davanti a tirare quindi probabilmente sabato avevate imparato la lezione Matteo Porvini vi aveva detto di non farvi scappare nessuno l'obiettivo era raggiunto però nel finale Lorenzo Cataldo quando è uscito ha avuto più forza sì comunque abbiamo imparato dall'errore da sabato e niente oggi quegli errori sono stati corretti tutta la squadra ha lavorato molto bene sono stati loro perfetti direi e niente alla fine ho iniziato vincendo una gara nella casa dello sponsor e penso che anche loro hanno diritto a pasarmi davanti nelle gare vicino a casa loro sono stati oggi più forti e niente sono volate e sono da affrontare così Saverio Metti presidente del comitato regionale toscano è stato una insomma delle feste di Pasqua con il ciclismo perché Pasqualando questa nuova attività ormai da un anno della Unione Civistica Santa Croce e San Mignato Santa Croce poi ovviamente oggi è tornato soprattutto poggia alla cavalla si può dire lo chiamano il mondiale di primavera un motivo ci sarà e ha vinto anche Lorenzo Cataldo quindi io penso di non aver toccato Seggio da sabato in poi è una soddisfazione perché Pasqualando sappiamo come è andata tanti atleti poi comunque sia tutte le categorie stamani ero a Calenzano che c'erano gli esordienti e gli allievi e oggi sono qui io sono contento perché il mondiale di poggia alla cavalla è famoso in tutta Italia e il fatto che sia tornato è comunque una ripartenza che a me come mercatale martedì scorso sono queste corse che fanno bene alla tradizione ma fanno bene a tutto il movimento toscano poi in realtà poi tre squadre toscane e due toscani doc perché insomma sono due ragazzi che tra l'altro li voglio anche bene perché sono due ragazzi cresciuti nel nostro ciclismo prima e secondo credo che sia Lorenzo Cataldo sia Lorenzo Magli ora Gomez va bene lo conosciamo per altre cose e comunque l'Oplano è una società importante toscana quindi un podio tutto toscano a noi ci dà tanta soddisfazione siccome ora un po' di risultati sono anche venuti del ciclismo toscano i miei pronostici sono abbastanza rispettati perché basta che vince un toscano però in realtà oggi ha vinto il ciclismo e sono convinto che questa qui sia sempre una corsa che ha il suo fascino chiaramente è una corsa di un circuito che non è tecnicamente chissà che cosa però ha sempre quel fascino particolare quindi sono contento che i ragazzi qui di Poggia alla Cavalla siano riusciti a rimetterla su siamo con il sindaco di Lamporecchia la Sottorigiani allora è tornato Poggia alla Cavalla si può dire ma soprattutto non si ferma questo ricordo di Giuliano Baronti che c'è stato anche oggi qui perché probabilmente in questa zona Giuliano ha dato tanto a questo sport che oggi lo ha ricordato per l'ennesima volta con una corsa che probabilmente lui da là su sarà anche contento sia tornata allora innanzitutto si finalmente si ritorna anche Poggia alla Cavalla e si ritorna un po' alla normalità insomma finalmente si rivede un po' di appassionati anche su queste strade che dal 60 dagli anni 60 ospitano questa corsa che ormai è diventata una corsa insomma storica per noi fa parte della nostra tradizione e ovviamente Giuliano il ricordo di Giuliano è un ricordo che non si esaurirà con queste con queste corse ma sarà una come dire una sorta di guida anche per gli anni futuri perché quello che ha dato lui al ciclismo nelle nostre zone ma non solo poche altre persone lo hanno fatto insomma ecco quindi non è solamente un ricordo ma è proprio un seguire un modo di essersi appassionato a questo sport siamo con due degli organizzatori di questa gara appoggia la cavalla che è tornata quest'anno dopo alcuni anni di stop Piero Camelli e Gambero Enzo allora parto da te subito Piero insomma una gara che è tornata l'avete voluto ovviamente voi come anche la comunità probabilmente come gli sponsor perché dopo il 2019 il covid ovviamente vi ha obbligato a uno stop forzato ma quest'anno siete tornati infatti noi nel 2020 avevamo riorganizzato la gara però purtroppo per i noti eventi abbiamo dovuto insomma disdire questo appuntamento oramai che dura con quest'anno da 58 edizioni e appunto sì come dicevi anche tu noi dobbiamo ringraziare tantissimo i nostri sponsor che sono stati proprio loro per primi a rivolere questa corsa oltre a Enzo Gambero che è qui e al presidente Valerio Sostegni che hanno voluto fortemente con l'aiuto di questi sponsor riorganizzare la manifestazione che quest'anno era il 58esimo Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla un grazie a tutti alla provincia alla prefettura alla città metropolitana ai comuni di Lamporecchio Vinci e Cerneto Guidi che appunto con la loro solersia hanno permesso di avere i permessi per poter essere per poter organizzare questa gara e ringraziamo poi tutti quelli che sono intervenuti per noi per mettere in sicurezza il percorso insomma a rifarsi dal palco e transennere i materiali insomma per gomma piume e materassi dunque il percorso grazie a tutti e arrivedersi al prossimo anno per il 59esimo Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla ecco Enzo passo a te è chiaramente una corsa che poi vista anche un grande vincitore Lorenzo Cataldo della Gragnano un ordine d'arrivo che come ogni anno perché qui hanno visto vincere anche quelli che poi sono diventati anche campioni la chiamano il mondiale di primavera e non poteva essere lasciata così alla 57esima edizione quindi avete voluto veramente come ha detto ora Piero riportarla sì siamo abbastanza siamo contenti tutti perché veramente è andata bene io oltre a Piero vorrei aggiungere a tutti i volontari che ci hanno aiutati e che ci aiutano sempre specialmente il giorno di Pasqua e naturalmente gli sponsor e no non è niente da aggiungere a parte che è vero un bellissimo ordine d'arrivo Cataldo e Magli e quant'altro gli altri siamo felici e praticamente al prossimo anno grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri